Per tutte le vitture penso che quasi tutti la impugnano qua. Io fin da piccolino mi sono abituato a curfugnare in questo modo e alla fine è la stessa cosa, penso. Comunque la rotazione è sempre la stessa, però è una questione di abitudine mia. Mi piace sentirla sui due pastrelli della mano. Mi piace sentirla sui due pastretti. Grazie a tutti.